Sindaco Di Primio, questa volta lei più che mai fa sul serio, ha detto nelle ultime ore che è pronto a denunciare Enel per quanto è accaduto nei giorni scorsi. Ho già dato mandato all'ufficio legale del Comune di predisporre tutti gli atti necessari perché questi disservizi che si stanno ancora ripetendo, che che ne dica il Presidente della Regione, a Chieti abbiamo ancora fino a ieri sera dovuto registrare molte utenze, troppe utenze, senza la possibilità di avere luce a casa. E questa è una cosa intollerabile. Adesso stiamo avviandoci verso una nuova fase di questa emergenza che è quella della conta dei danni e della messa in pristino di tutte le strade, le scarpate, le tubature che si sono state danneggiate dal maltempo, ma abbiamo anche il tempo in questo momento di chiedere ragione a chi eventualmente non ha sufficientemente considerato quello che stava capitando in Abruzzo e nella nostra città di rispondere per le proprie azioni. È mancato il coordinamento, è mancata sicuramente la organizzazione e soprattutto è intollerabile che Enel, nei primi due giorni degli eventi, io parlo già dal 15 del mese di gennaio, nei primi due giorni fino al giorno 18 non abbia dato risposte certe non ai cittadini che le chiedevano e anche essi avevano tutti i diritti di averle, ma neppure alle istituzioni. Io già sabato mattina ho convocato una giunta straordinaria e nel corso di quella giunta abbiamo adottato un provvedimento ad integrazione di quello assunto qualche giorno prima per la dichiarazione dello stato di emergenza sull'intero territorio del comune di Chieti e in una stima che è stata fatta dei danni che fino ad oggi, fino a questo momento, possano registrarsi siamo sull'ordine dei 10 milioni di euro. Non appena sarà possibile i comuni devono avere la immediata disponibilità delle somme per avviare le opere di riparazione di tutte le strade che oggi rappresentano un gravissimo pericolo per la viabilità. Per questo io ho chiesto l'intervento diretto del Presidente del Consiglio dei Ministri perché solo in questo modo risolviamo i problemi.